La domanda inerente a chi sono io, chi abita qui dentro, chi guarda con i miei occhi, chi parla con la mia voce e dove sto andando, da dove vengo e dove sto andando, sono le domande che hanno caratterizzato tutta la mia vita da quando ho ricordo di me. Ho cercato sempre il significato della mia esistenza, a quel punto ho detto beh non posso sparire da qua senza sapere perché sono venuta e quindi è stata quasi una spinta fortissima a chiedermi ma che ci sto a fare qua, perché sono qui, perché esisto.